Bella a tutti ragazzi qui è Gita Pro in questo nuovo video vi mostrerò come fare soldi infiniti in Gita Online con la patch 1.32 dopo l'Hotfix Prima di iniziare con il video vi invito subito a lasciare tanti pollici in su a questo video per supportarmi Iscrivetevi al mio canale per non perdervi i prossimi video inoltre iscrivetevi al canale di ZGlitches che mi ha aiutato a fare questo video qui Quindi troverete il link del suo canale in descrizione quindi ragazzi iscrivetevi al suo canale Detto questo iniziamo subito con il video Questo glitch è molto simile a quello precedente infatti è veramente identico Dovremmo semplicemente modificare un passaggio per farlo funzionare Prima di fare questo glitch però vi invito semplicemente a leggere la descrizione Infatti se il glitch verrà Hotsfixato scriverò semplicemente che non funziona più Così almeno non perdete tempo a fare Quindi la prima cosa da fare è andare in GTA Online in una sessione sola ad invito Io vi consiglio di utilizzare questo garage qui perché è molto più semplice da fare rispetto ad altri garage Quindi se avete un po' di soldi vi consiglio di acquistare questo garage qui Dovete riempire questo garage pieno di rebel O meglio metterci al suo interno tante rebel in modo che dopo possiamo duplicare le macchine e sostituirle con le rebel Quindi fare in modo ragazzi che il garage sia pieno perché il garage deve essere pieno Altrimenti non funzionerà Prendiamo la macchina che vogliamo duplicare da un altro garage e ci richiamo in questo garage qui A questo punto ragazzi dovremo semplicemente distruggere la macchina e il nostro amico dovrà subito ucciderci Una volta fatto ciò dovremo invitarlo al duello e dopodiché il nostro amico non dovrà accettare subito Ma voi dovete prendere velocemente un veicolo per strada che si possa depositare E dovete recarvi velocemente all'interno del garage Quindi a questo punto appena ragazzi noi stiamo entrando in garage Quando ci dirà che il garage è pieno Appena noi premiamo X per confermare Il nostro amico dovrà subito accettare il duello Quindi ragazzi è una cosa che è veramente molto semplice Non è per niente difficile Quindi appena noi ci avviciniamo al garage E premiamo il tasto X quando ci dice che il garage è pieno Il vostro amico dovrà subito accettare il duello A questo punto noi non entreremo in garage Ma spawneremo fuori dal garage senza macchina Quindi saremo a piedi A questo punto è veramente molto semplice Ci basterà semplicemente chiamare la Morse Mutual E pagare la macchina che abbiamo distrutto precedentemente Una volta fatto ciò ci basterà semplicemente abbandonare il duello E dopodiché dovremo semplicemente entrare in un'attività Una volta entrati in un'attività ci basterà semplicemente uscire E praticamente spawnerà la macchina vicino a noi Ora dovremo dire al nostro amico di prendere il Cargo Bob E dovrà alzarci e dovrà portarsi davanti al garage O meglio dovrà con il Cargo Bob alzarci e metterci appunto davanti al garage Quindi cercate di mettere la macchina verso il garage E il vostro amico con il Cargo Bob dovrà avvicinarsi più che un po' al garage Vi dirà che il garage è pieno Voi non premete nulla e vi farà entrare in automatico A questo punto ragazzi noi saremo all'interno del garage Invece il nostro amico avrà ancora la macchina attaccata al Cargo Bob Non dovrà assolutamente lasciare Dovrà ancora continuare a tenere la macchina duplicata sul Cargo Bob A questo punto dovremo semplicemente sostituire la macchina con una Kairin Rebel Però prima di fare ciò dovremo aspettare 20 secondi E una volta aspettati 20 secondi potremo tranquillamente sostituire la macchina Una volta fatto ciò ci basterà semplicemente uscire fuori dal garage E praticamente il nostro amico avrà ancora la macchina duplicata attaccata al Cargo Bob Quindi noi ragazzi dovremo semplicemente premere triangolo Mentre il nostro amico con il Cargo Bob tiene la macchina in alto Ci farà teletrasportare all'interno della macchina Il nostro amico dovrà semplicemente lasciarci Noi non dobbiamo scendere dalla macchina ma dovremo semplicemente entrare all'interno del garage Una volta fatto ciò avremo duplicato la macchina Quindi possiamo scegliere se continuare a duplicarla oppure smetterla qui E andare a vendere i veicoli uno ad uno Se volete continuare a duplicare la macchina dovete prendere la prima macchina che avete messo in garage Dovete uscire di fuori, farla esplodere e continuare con il glitch E quindi è veramente un glitch molto semplice e molto efficace Per il momento questo glitch qui funziona, non si sa quando verrà hotfixato o patchato Però comunque sia vi invito a leggere sempre la descrizione perché gli scriverò se il glitch funziona ancora oppure se è stato hotfixato Quindi mi raccomando prima di fare il glitch assicuratevi che il glitch appunto funziona A questo punto potremmo vendere i veicoli di continuo senza aspettare nulla Infatti potremmo vendere i veicoli a prezzo pieno con bypass Quindi è veramente un glitch fantastico Per questo glitch qui è consigliato utilizzare la Sultan RS Non utilizzate le auto di lusso perché praticamente non ve le farà rivendere dopo la prima volta Quindi raga usate solamente i veicoli che normalmente valgono meno di 500.000 dollari Detto questo spero che il video vi sia piaciuto Se è così vi invito a lasciare tanti pollicini su questo video per supportarmi Iscrivetevi per non perdervi i prossimi video Iscrivetevi al canale di Zaglitch Trovate il link in descrizione Lasciate un like a questo video per supportarmi E iscrivetevi per non perdervi i prossimi video E noi ci vediamo in un prossimo video Bella